Orca, orca, Anna la cena, Anna la cena! Eh, vedi, non ha fatto neanche in tempo a salutare, poverina. Cioè, deve subito... Questo è il supremo compito di Anna. Vai, prendere... Eccola che passa a prendere la cena. Sbottono un bottone nella camicia. E non vi ha ancora salutato, sarà terribile. Cioè, cara, vieni subito qui, che oggi Anna però ci dà la cena. Che bello, che bello. Che fino ad oggi non abbiamo potuto mangiare. Noi, praticamente, è stato difficilissimo sopravvivere senza mangiare tutte queste live. Ma oggi finalmente possiamo, povera Anna. Eh, sì, un pochino, sì, perché poverina, sono sicuro che era pronta a salutarvi. Sicuramente aveva già deciso cosa dirvi. Sicuramente voleva dirvi tipo, ciao piccoli fringuelloni, ciao carciofini, no? Tutte queste cose qua non ha fatto in tempo. Ma ve lo...